buongiorno a tutti in questo video parleremo del principio dei lavori virtuali un argomento insidioso che cercherò di affrontare a 360 gradi spero nel modo più chiaro possibile in primis cosa dice il principio dei lavori virtuali questo principio afferma che un sistema meccanico soggetto a vincoli ideali in una configurazione c è in equilibrio se solo se il lavoro virtuale delle forze attive sottolineo attive agenti sul sistema sia non positivo quindi minore uguale a zero per ogni spostamento virtuale appartenente alla configurazione caso particolare è uguale a zero se solo se i vincoli sono reversibili spieghiamo tutto il principio in primis vincoli ideali cosa si intende per vincoli ideali i vincoli ideali riguardano le forze quindi è un vincolo che riguarda le forze reattive e quindi il lavoro delle forze reattive bene il lavoro virtuale delle forze reattive deve essere maggiore uguale a zero questa definizione di vincoli ideali oppure c'è un'altra definizione sulla potenza delle forze reattive però non ci interessa per questo principio preferisco dare solamente la definizione di la definizione che riguarda il lavoro un altro punto che potrebbe non essere chiaro riguarda la reversibilità quando è che un vincolo si dice reversibile bene consideriamo uno spostamento virtuale un atto di moto questi si dicono reversibili se il suo posto è ancora reversibile ovvero se dp è reversibile anche meno dp è ancora virtuale è ancora virtuale benissimo solo in questo caso avremo la reversibilità analogamente con l'atto di moto quindi se consideriamo v primo dp anche meno v primo dp è ancora virtuale bene fatto questa distensione potremmo introdurre i vincoli bilateri ovvero un vincolo si dice bilatero se ogni suo spostamento è reversibile è unilatero se almeno un spostamento non è reversibile quindi se esiste almeno un dp a cui non può essere associato un meno dp o meglio il meno dp non è più virtuale cioè non è possibile fare questa relazione bene fatte queste premesse spero di aver chiarito ad interim l'intero principio passiamo al secondo punto che mi ero prefissato di fare oggi ovvero la deduzione delle equazioni pure passando per le componenti della sollecitazione attiva bene per quanto riguarda questo principio non ci resta che svolgere il lavoro delle forze attive quindi riprendiamo la penna nera e iniziamo a scrivere che il lavoro delle forze attive è uguale a questo uguale alla sommatoria del fi quindi tutte le forze che agiscono sul vincolo forze attive agenti sul sistema scalar lo spostamento virtuale quindi dpi ovviamente la sommatoria va dagli a n a questo punto noi sappiamo che non c'è il tempo quindi dpi spostamento virtuale cosa è uguale allo spostamento virtuale in caso della statica è uguale alla sommatoria su k di che cosa di dpi su dqk in dqk scusate in dqk delta qk dqk è lo spostamento elementare anzi meno male che sono contento di questo lapsus così quindi ricordo che delta qk nel caso del spostamento virtuale dqk come avevo scritto io originariamente è per lo spostamento elementare noi stiamo considerando gli spostamenti virtuali quindi qui abbiamo un delta ci sarebbe più la dipendenza dal tempo ma la dipendenza dal tempo non c'è in statica quindi non viene considerata possiamo quindi riscrivere come la sommatoria su i di che cosa? della fi per sommatoria di dpi in dqk però voglio fare un passaggio voglio mettere un passaggio scambio le sommatorie visto che si può fare possiamo mettere fuori quindi la sommatoria su k all'interno la sommatoria su i di che cosa? della fi per dpi su dqk per fuori da questa sommatoria delta qk questo è uguale a 0 mi chiederete perché non è minore uguale a 0? perché ora sto considerando un sistema reversibile o meglio avente vincoli reversibili bene in caso di vincoli reversibili questo è uguale a 0 adesso quando è che questo è uguale a 0? abbiamo due casi se il vincolo è anulonomo non possiamo dire granché perché non possiamo fare osservazioni su questi dqk però se il vincolo è olonomo scriviamo vincolo olonomo bene i delta qk sono tutti indipendenti tra di loro quindi dato che il sistema è soggetto a vincoli olonomi le delta qk sono indipendenti scriviamo indipendenti quindi possiamo scrivere che le delta qk sono tutte delta qk indipendenti tra di loro inoltre più che un impico questo è inoltre si verifichiamo due circostanze questo è frutto dell'olonomia questo è dovuto al fatto che devono valere per qualsiasi delta qk quindi delta qk deve essere diverso da 0 per ogni k la somma di queste due condizioni implica che devo porre una condizione su ciò che ho messo tra parentesi sulla mia sommatoria su i questa parte la chiamo qk ed è proprio questa componente questa sollecitazione attiva che infatti io pongo uguale a 0 per ottenere delta l uguale a 0 quindi questa è la condizione sulle sollecitazioni attive in caso di vincoli olonomi questa qk è chiamata componente lagrangiana delle forze attive secondo le coordinate qk e questa è la dipendenza da qk infatti la kesima componente la condizione su k discende direttamente da questo delta qk da qui bene concludiamo il video introducendo il principio di stazionalità del potenziale bene il principio di stazionalità del potenziale afferma semplicemente che delta u è uguale a 0 ma che cos'è delta u ok delta u discende direttamente dalla componente lagrangiana infatti io definisco u in questo modo qk è delta u su dqk bene se qk si è uguale a 0 vuol dire che u si mantiene costante ok se è possibile associare un'energia potenziale al sistema questo porta alla definizione del principio di stazionalità del potenziale che afferma che delta u è uguale a 0 quindi u si mantiene costante nel sistema e questo implica in ultima analisi che c'è equilibrio nel potenziale c'è equilibrio nel sistema se solo se il potenziale è stazionario equilibrio se solo se potenziale è stazionario quindi u costante questo chiude la mia trattazione sul principio sul principio dei lavori virtuali e anche il video grazie a tutti